che differenza poi fa il rumore i passi sulla scala ce siamo? mamma mia, è difficile oggi tutti adesso è 11 qua con uno staging vado? silenzio per favore che famo vendere casa con l'home staging ciao a tutti sono Leonardo Raso della L bene, perfetto ciao a tutti sono Leonardo Raso della LR ok, mi comincio ciao a tutti sono Leonardo Raso della LR Immobiliare Roma agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che vende immobili residenziali e commerciali a Roma e provincia no ma perché sto dicendo queste cose che non servono a cazzo? ciao a tutti sono Leonardo Raso titolare della LR Immobiliare Roma sono un agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che svolge la propria attività a Roma e provincia vendendo immobili residenziali e commerciali oggi vi parlo di una tecnica innovativa per molti anche se noi la utilizziamo da tanti anni ed è la tecnica dell'home staging che tradotto in italiano sarebbe rendere l'appartamento un palcoscenico in realtà è una tecnica che consente di valorizzare l'immobile che si vuole vendere attraverso tutta una serie di allestimenti per ottenere l'effetto wow ossia per colpire l'attenzione dei potenziali acquirenti fin dal momento della pubblicazione delle prime foto negli annunci immobiliari allora sarà capitato a tutti di aver visitato su portali immobiliari annunci di privati ma anche di molte agenzie con foto particolarmente brutte camere da letto con il letto di spatto bagni in disordine cucine con i piatti sporchi in bella vista ecco la tecnica dell'home staging serve proprio invece a presentare l'immobile che si desidera vendere in condizioni perfette con un effetto diciamo ottico che appaga immediatamente l'occhio di chi sta guardando quelle foto noi siamo organizzati con una home stager ossia abbiamo una professionista specializzata di questa tecnica molto molto complicata e siamo anche dotati di tutta una serie di materiali di allestimento che consentono di poter trasformare davvero un immobile con tutta una serie di allestimenti che rendono l'immobile particolarmente apprezzato dall'occhio di chi guarda quelle foto ovviamente poi la tecnica viene anche applicata per le visite quindi quando i visitatori dell'immobile vanno dentro casa e vedono l'immobile in ordine ben pulito, ben presentato con l'eliminazione di tutti quegli aspetti troppo personali del proprietario hanno già un comfort nella visita che consente a loro di registrare nel proprio cervello l'immobile come un immobile degno di nota è una tecnica molto complicata perché ovviamente comporta un investimento economico non indifferente ma è una tecnica che da un lato aiuta a valorizzare tantissimo l'immobile che si vuole vendere e spesso ne velocizza la vendita quindi se vuoi scoprire come poter vendere il proprio immobile con la tecnica dell'home staging ti invitiamo a contattarci a tutti i nostri recapiti che trovi in calce alla fine di questo video e ti invitiamo a chiederci un consiglio per poter valorizzare il tuo immobile perché sinceramente il web è pieno di foto brutte di immobili presentate in maniera indegna ed è anche un po' una mancanza di rispetto nei confronti dell'acquirente che poi dovrà versare tanti soldi al proprietario e a volte anche ovviamente alla gente immobiliare che se ne occupa presentare gli immobili in quei modi insomma poco poco carini se questo video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al nostro canale a mettere un clic sulla campana in modo da essere aggiornato con le prossime notifiche di video che andremo a pubblicare e ti invito anche a mettere un mi piace puoi seguire tutti i nostri video sui nostri canali social e sul nostro sito www.lrmobiliarieroma.it un saluto e buona vendita da Leonardo Raso